Ciao appassionati di calcio e benvenuti su Top Sport News, la vostra fonte numero uno per rimanere aggiornati su squadre, giocatori e trasferimenti nel mondo del calcio. Se siete nuovi qui, non perdete tempo, iscrivetevi subito al nostro canale per ricevere le notifiche sui nuovi video. E non dimenticate di darci il vostro supporto mettendo mi piace ai nostri video, per aiutarci a crescere. Ora, passiamo alle ultime novità del calciomercato riguardanti il Napoli. C'è una nuova prospettiva che potrebbe interessare i tifosi azzurri, ed è legata al difensore Isakain del Verona. I dati statistici lo indicano come il candidato perfetto per rinforzare la difesa partenopea, soprattutto dopo l'arrivo di Luciano Garzia come allenatore. La scorsa stagione, il Napoli è stato protagonista assoluto nella corsa allo Scudetto, ma in questa stagione ha avuto un inizio meno brillante, con risultati altalenanti. Alcuni tifosi ritengono che i primi problemi siano emersi durante il calciomercato estivo, specialmente con il passaggio da Spalletti a Garzia come allenatore. Uno dei momenti critici dell'estate è stata la cessione di Kim al Bayern, e questo ha messo in evidenza i problemi difensivi del Napoli. La squadra ha subito gol in modo costante nei primi quattro turni di campionato. Ora, il Napoli potrebbe guardare verso il mercato e Isakain del Verona potrebbe essere una soluzione. I dati mostrano che è un difensore molto promettente, e la sua giunta potrebbe rinforzare notevolmente la difesa del Napoli. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa situazione, e se il Napoli deciderà di fare un'offerta per Isak. Continueremo a seguirla da vicino, quindi assicuratevi di rimanere aggiornati, iscrivendovi al nostro canale. Cosa ne pensate, tifosi del Napoli? Siete d'accordo con l'idea di rinforzare la difesa con l'arrivo di Ayn? Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Grazie per averci seguito su Top Sport News. Ci vediamo presto con altre notizie appassionanti dal mondo dello sport. E non dimenticate di iscrivervi! Grazie a tutti!